Dopo aver visto ragazzi le leggi sui gas, meglio sulle trasformazioni possibili per il gas, quindi la legge di Boyle e le due leggi di Gay Dossack, introduciamo quest'altro argomento, un argomento sempre legato al gas, come vedete al titolo, gas perfetto o ideale. Beh, diamo come dire un po' quella che è la definizione, cioè un gas, quando è che viene chiamato gas perfetto? Quando soddisfa queste quattro relazioni che adesso andrò ad elencare. Iniziamo dalla prima. Le molecole del gas, quindi inteso come perfetto, le immaginiamo con volume nullo. È una condizione molto forte, perché lo immaginiamo veramente come volume nullo, scusate però devo aggiungere scusate, cancello da quello che la dovevo mettere prima a sta frase, come sfere di volume nullo. che significa sta cosa? Vengono immaginate come tante sferecche ogni molecola di gas, però dire volume nullo, che significa? Che ogni molecola è praticamente un infinitesimo, cioè è una particella talmente piccola che appunto possiamo, cioè non riusciremo mai a, come dire, a misurarla e quindi il suo volume è zero. Va bene? E questo, in qualche modo, già andiamo con sui gas reali. Noi non riusciremo mai a vedere la singola molecola di gas pure reale, proprio perché le molecole sono talmente piccole che anche a un microscopio, ad esempio a strumenti del genere, non riusciremo poco da vedere. Quindi quello che qui è messa come caratteristica di un gas ideale, in realtà poi assomiglia molto a quello dei gas reali. Poi ce la vediamo, come vediamo. La seconda condizione, il moto di ciascuna molecola avviene in ogni direzione potremmo puntualizzare che non vi sono direzioni privilegiate. Che significa sta cosa? Nel muoversi, se una molecola di gas si trovasse qui davanti a me e erano libera di muoversi, non posso dire che, ne so, si muove in orizzontale o in verticale, no? In una direzione ben prestabilita, ma ha la capacità di muoversi in qualunque direzione in ugual modo. Va bene? E questo, poi vedremo, è una caratteristica importante, insieme a tutte le altre, però avremo modo, tra qualche minuto, di puntualizzare meglio che cosa significa questa cosa. La terza caratteristica gli orti tra molecole di gas sono, quindi gli orti è il soggetto, sono perfettamente elastici. e qua possiamo invece puntualizzare non vi è alcuna perdita di energia. Questo significa urto elastico. Anche qua tra un attimo avremo modo tirala soltanto, senza piegare, esatto. Ok. avremo modo di specificare che cosa significa sta cosa. Scriviamo l'ultima caratteristica. Le molecole sono sottoposte sotto fatto un pasticcio alle leggi della meccanica classica. Che significa sta cosa? Che non vi sono leggi particolari per le molecole riferite ai moti. Cioè tra vedere per così dire una molecola di gas che si sta muovendo e un'automobile un qualunque corpo che si sta muovendo le leggi a cui soddisfano sono le stesse. Ok? Pure che stiamo parlando di oggetti chiamiamoli così infinitamente piccoli perché l'abbiamo detto nel primo punto che assimiliamo ogni molecola ad un volume praticamente nullo. Ok? queste sono le caratteristiche che deve avere un gas perfetto cioè quando uno dice quando un gas si dice perfetto quando soddisfa queste quattro condizioni quindi volume di ogni molecola sferico diciamo la forma e il volume nullo seconda condizione il moto avviene in ogni direzione in ugual modo terza condizione gli urti tra molecole sono perfettamente elastici quindi non c'è perdita energia quarta condizione il diciamo ogni molecola di gas soddisfa le leggi dei gas perfetti scusate le leggi della meccanica classica quindi nei moti avviene ciò che avviene per ogni particella ogni corpo anche fosse più grande vediamo di tradurre un po' queste cose in ciò che avviene in realtà non solo per un gas perfetto ma anche per un gas reale iniziamo a parlare della sua direzione che abbiamo detto che un gas si muove quindi in ogni direzione in ugual modo non ce n'è una privilegiata ma poi abbiamo parlato nel terzo punto anche di urti perché le molecole vedete si comportano un po' come le sfere di un biliardo immaginate che questa si muove e arriva qui quest'altra si muove e arriva qui nel momento in cui c'è l'urto che cosa avviene c'è inevitabilmente un cambio di direzione faccio di colore diverso quindi immaginate che questa molecola prende quest'altra direzione così questa quest'altra poi semmai qui arriverà ad urtarsi con un'altra questa qui continua così questa che ne so si piega quindi se io andassi a vedere immaginiamo di vedere solo una traiettoria di una qualunque molecola sarebbe un moto totalmente casuale cioè non posso dire la molecola parte da qua va bella dritta e arriva in un determinato punto come fosse una strada dove cammino da solo no mi metto e cammino dritto perché ci stanno miliardi diciamo anche più di urti in ogni istante in ogni secondo quindi ad ogni urto come avverrebbe con le sfere di un biliardo che cosa succede quando due sfere ognuna semmai immaginate due giocatori ognuna la lancia e si incontrano ognuna prende poi istantaneamente una direzione diversa no? non è che fa un cambiamento così la sfere del biliardo no quando urta l'altra cambia direzione questa arriva da qui e quest'altra semmai semmai in così va bene? quindi così avviene per le molecole dei gas però puntualizziamo quindi il moto è vero che avviene in ogni direzione ma poi di fatti la traiettoria di ciascuna molecola è una traiettoria in cui c'è un continuo cambio di direzione dovuto a quegli urti il discorso invece sugli urti vedete quest'altra condizione che avevamo detto che gli urti sono perfettamente elastici e già l'ho puntualizzato non vi è alcuna perdita di energia supponiamo al contrario che uno dice vabbè e se ci fosse questa perdita di energia supponiamo che ci fosse in un gas messo in un contenitore no? un po' pure quello lì che abbiamo visto per fare gli esperimenti virtuali immaginate che là dentro c'è il gas queste molecole che si muovono e quindi urtano tra di loro però supponiamo per assurdo che gli urti non siano perfettamente elastici cioè ad ogni urto c'è effettivamente una seppur minima perdita di energia ok? se ci fosse una perdita di energia ad ogni urto siccome avvengono miliardi e miliardi di urti in ogni istante dopo un po' cioè perdi energia adesso perdi dopo dopo un po' non dico dopo pochi secondi ma dopo un'ora una settimana un mese quello che ci pare dopo un certo tempo quelle molecole che farebbero? smetterebbero di muoversi si fermerebbero tutte quante no? perché tu è come una palla da biliardo ad ogni volta pure che urta un'altra sfera perde un po' di energia lì c'è pure l'attrito è d'accordo ma comunque anche fosse solo l'urto la perdita di energia c'è sempre per le sfere del biliardo quindi potrebbe fare tutti gli urti che ci pare ma prima o poi ogni molecola sarebbe destinata a fermarsi se così fosse cioè se dici me in realtà è così io avendo un contenitore immaginate che questa bottiglia che è una bottiglia d'acqua invece fosse una bombola di gas quella che si usa pure per cucinare al momento in cui andassimo ad aprire il rubinetto che succederebbe? sentireste voi l'odore del gas? perché? rimarrebbe lì e potremmo andare a riprendere una bombola che ci abbiamo messa da qualche parte da mesi va bene? quindi se gli urti non fossero perfettamente elastici ma come abbiamo ipotizzato sbagliando ovviamente che invece no sono appunto non sono perfettamente elastici prima o poi quelle molecole si fermerebbero ok? invece noi aprendo il rubinetto del gas sappiamo la sentiamo lo sentiamo quell'odore poi sempre in questo esempio che sto facendo torniamo proprio sul fatto delle direzioni vedete il fatto che non ci sia una direzione privilegiata lo dice il fatto che una situazione facilmente riscontrabile apro una bombola di gas o apro il fornelletto di casa bastano pochi secondi che succede in tutta la casa? sento quell'odore di gas va bene? perché quelle molecole cercano di raggiungere tutto il volume possibile chiaramente se apriamo le finestre quell'odore sparisce in pochi minuti poi proprio perché il nostro olfatto si abitua anzi scusate odore di gas dico perché oramai siamo talmente abituati a quell'additivo chimico che è stato messo ma il gas non ha odore però senza quell'additivo già così ogni tanto possono accadere incidenti esplosioni cose di stufe a gas e quant'altro figuratevi se non potessimo ascoltare sentire con il naso nessun odore sarebbe veramente una tragedia ogni giorno però per noi oramai è talmente cioè saranno 70-80 anni che viene usato quell'additivo che per chiunque il gas ha quell'odore quindi ci siamo convinti tutti quanti che il gas abbia un odore invece non ce l'ha va bene quindi dicevo tutta la casa sentiremo quell'odore di quell'additivo chimico chiaramente legato che si lega alla molecola di gas va bene quindi il fatto di sentirlo per tutta la casa che significa che il gas è andato in ogni direzione cioè non ce n'è stata una privilegiata come ho sottolineato qui va bene ma è andata in ogni direzione va bene poi l'ultima considerate il fatto che non ci siano delle leggi particolari per i gas ma ora si riapre lo stesso ma una molecola di gas si comporta come un qualunque corpo che è in movimento va bene quindi soggetto ad accelerazioni decelerazioni quando a velocità costante e quant'altro ok quindi questa la definizione pensate che c'è una seconda definizione molto più semplice un gas è detto perfetto se soddisfa le leggi di boil e di key lo sac questo è bellissimo come definizione uno si spiccia in due secondi un gas che soddisfa le tre leggi che abbiamo imparato da conoscere la prima quella di boil e le due di keglius è detto gas perfetto però vedete in questa seconda definizione è come se che è giusta non è che è un imbroglio però uno non riesce ad avere l'idea nella pratica dice un gas perfetto come si comporta invece nella prima definizione queste sferette minuscole di volume nullo che vanno in ogni direzione che negli orti non perdono energia cioè riesco già a immaginarmele va bene invece se dessimo solo questa definizione sarebbe molto generica però è una definizione assolutamente un enunciato se vogliamo di gas perfetto assolutamente accettata diciamo in fisica quindi un gas che soddisfa le tre leggi che abbiamo appena fatto si dice gas perfetto bene l'ultimo argomento diciamo che almeno chiudiamo un po' è l'equazione di stato dei gas perfetti e qui anche andiamo ragazzi a completare un qualcosa di già iniziato ovvero proprio la legge di Boyle che adesso richiamiamo che diceva la legge di Boyle che il prodotto per un gas tra pressione e volume è costante mi ricordate poi abbiamo detto che questo significa che sono inversamente proporzionali insomma tutte queste cose ma in sostanza questa era la formula la legge beh l'ho richiamata perché l'equazione di stato dei gas perfetti ragazzi è una sorta di ampliamento di quella legge di Boyle dove andiamo a dire quanto vale quella costante cioè Boyle aveva detto ho osservato che il prodotto tra pressione e volume in una trasformazione in cui isoterma dove c'è un gas quel prodotto è costante ma non aveva come dire quantificato quella costante invece successivamente altri fisici hanno visto che quella costante è data da N per R per T dove vabbè ragazzi mo li rimetto tutti P è la pressione V è il volume scrivo già pure quello che sappiamo T è la temperatura in gradi Kelvin N è il numero di moli una mole viene usato questa unità di misura praticamente solo per i gas una mole di gas è una quantità di massa di gas cioè già un grammo è un'unità enorme per i gas esatto allora per evitare di utilizzare sempre dei sottomultipli molto piccoli del grammo hanno inventato la mole però quando sentite una mole di gas è come se dicessimo 3 grammi di una qualunque sostanza 10 grammi ok quindi è un'unità di massa e poi se vi ricordate appare anche tra le grandezze fondamentali vi ricordate lì vedete quantità di sostanza mol ma è quindi l'unità di si indica lo metto qua mol ma è usata praticamente solo per i gas quindi n è il numero di mol r è una costante universale che per tutti i gas la ricopio perché non me la ricordo neanch'io 8,31 44 72 cosa c'è un'unità di misura joule fratto mol per gradi kelvin quindi vedete con questa formula adesso questa equazione di stato abbiamo perché assomiglia alla legge di Boil p per v uguale costante come dire vale qualcosa che è sempre lo stesso noi stiamo puntualizzando dicendo quanto vale quella cosa ed effettivamente vi voglio far riflettere come effettivamente n rt è costante allora n è il numero di moli quando io metto in un recipiente metto un gas il numero di moli che sta là dentro è costante può essere quello che ci pare ma è costante cioè è quello come se io dicessi prendo un litro d'acqua per fare un esperimento quello è la massa che ho preso r che abbiamo detto è una costante è un numero t che tipo di trasformazione diciamo c'è con la legge di Boil una trasformazione isoterma quindi la temperatura era costante questo è costante questo è costante questo è costante il prodotto di tre costanti che cos'è? è costante perché vedete sarebbe stato un imbroglio se qui in qualche maniera c'era una di queste tre grandezze che variava allora dice aspetta non può essere un'estensione della legge di Boil perché Boil ci ha detto che il prodotto è costante se quel prodotto qui non fosse stato costante non era la legge di Boil era un'altra legge semmai che poteva valere in altre condizioni invece le condizioni sono esattamente quella della legge di Boil ok? ecco perché su qualche libro ma anche a me piace chiamarla legge quindi si chiama equazione di stato di gas perfetto ma mi piace chiamarla legge di Boil generalizzata va bene proprio a indicare che è la legge di Boil però un po' più completa perché dire il prodotto di due numeri è costante e uno dice quanto vale quella costante Boil non l'aveva detto va bene altri fisici poi hanno quanti quindi partendo dagli studi fatti da Boil poi hanno quantificato quindi in questo prodotto quindi il numero di moli per quella costante universale per la temperatura in gradi Kelvin che diciamo di quella trasformazione isoterma come nelle condizioni di Boil va bene quindi questa è l'equazione di stato dei gas perfetti di